In questa ultima lezione sulla membrana ne studieremo il potenziale elettrico, ovvero differenza di potenziale che si viene a formare tra il versante interno e quello esterno. Normalmente questa differenza di potenziale si aggira attorno ai meno 70-80 mV, tuttavia in alcune cellule definite eccitabili può temporaneamente modificarsi, aumentare e diminuire di conseguenza. Questo è definito potenziale d'azione. Come abbiamo appena accennato, la cellula in condizione di riposo presenta un potenziale di membrana negativo. Vediamo di capire però a cosa è dovuto. Per quanto riguarda le cariche negative, gli ioni cloro sono molto concentrate all'esterno. Questi compensano le numerose cariche negative dovute agli anioni proteici presenti sul versante interno. Per quanto riguarda le cariche positive, gli elementi in gioco sono il sodio e il potassio. La continua attività della pompa a sodio-potassio fa sì che ogni due ioni potassio che vengono portate all'interno vengono espulsi tre ioni sodio. Ogni due cariche positive che il versante interno acquisisce ne vengono espulsi tre. Questo ha l'effetto di polarizzare la membrana negativamente, in quanto ad ogni azione della pompa a sodio-potassio il versante interno perde una carica positiva. Quindi il sodio è molto concentrato all'esterno ed entrerebbe all'interno della cellula sia per differenza di potenziale, perché ci sono più cariche positive all'esterno, e sia per gradiente chimico. Tuttavia gran parte dei canali del sodio sono chiusi. Per quanto riguarda il potassio invece, questo è molto concentrato all'interno, e sebbene il gradiente chimico lo porterebbe ad uscire sul versante esterno, il potenziale elettrico invece glielo impedisce, perché all'esterno ci sono più cariche positive, quindi viene respinto dagli ioni sodio e viene attratto dagli ioni proteici. Inoltre i canali del potassio sono in gran parte chiusi. La prima fase del potenziale di azione è la fase di depolarizzazione. Questa fase la si ha quando un impulso elettrico aumenta la differenza di potenziale tra il versante interno e il versante esterno, ovvero la rende meno negativa. è necessario che questo impulso raggiunga la soglia di meno 55 millivolt per avviare la depolarizzazione. A questo potenziale i canali del sodio si aprono, e sia per il gradiente chimico che il gradiente elettrico il sodio entra. A causa della presenza di questi due gradienti il sodio entra raggiungendo lo zero, quindi eliminando la differenza di potenziale e addirittura superandolo, raggiungendo i più 35 e più 40 millivolt. A questo nuovo potenziale il canale del sodio viene inattivato. Inoltre quello del potassio si apre. In questo stato il canale del sodio è definito refrattario perché, benché sia aperto, un'altra subunità lo inattiva e qualsiasi nuovo impulso non potrà avere nessun effetto sul canale del sodio, perché questo è per l'appunto inattivo. Ogni impulso che arriverà durante una fase di depolarizzazione verrà ignorato. In questo nuovo stato il potassio possiede sia un gradiente chimico favorevole, che già possedeva dall'inizio, ma in più possiede un nuovo gradiente elettrico dovuto alla repulsione degli ioni di sodio appena internalizzati. Quindi, in concomitanza con l'apertura del canale ionico per il potassio, questo fuoriesce. La sua fuoriuscita ripristina il potenziale di membrana, richiudendo i canali del sodio e del potassio, inoltre riattivando il canale del sodio. La fuoriuscita del sodio porta alla iperpolarizzazione della membrana, ovvero il potenziale non si ferma ai meno 70 millivolt originari, ma tenderebbe a scendere fino ai meno 93, che è il potenziale di equilibrio del potassio. Tuttavia, l'avvio e la continuazione della pompa a sodio-potassio fa sì che questo stato di iperpolarizzazione si fermi attorno ai meno 80 millivolt. In questo stato di iperpolarizzazione, il canale del sodio è in uno stato di refrattarietà relativa. Questo perché non gli è impossibile una nuova depolarizzazione prima che si sia completamente conclusa quella precedente, però è più difficile, in quanto l'impulso dovrà avere un potenziale maggiore per poter raggiungere meno 55 millivolt. A questo punto è stato ripristinato il potenziale elettrico. Quello che manca però è è ancora l'equilibrio chimico e l'azione della pompa a sodio-potassio ripristina questa condizione. In teoria, l'azione della pompa a sodio-potassio rende più negativo l'ambiente interno e quindi non aiuta il ritorno dalla fase di iperpolarizzazione a quella di una polarizzazione normale. Per comprendere però come questo avvenga, è necessario avere basi avanzate di chimica e comprendere l'equazione di Goldman-Hodgkin-Katz, che però non verrà trattata in questa lezione. Osserviamo ora su un grafico il potenziale di azione. Fino a quando non arriva l'impulso, il potenziale di membrana è costante sui meno 70 millivolt in una cellula nervosa, meno 90 in una cellula muscolare scheletrica. Quando arriva l'impulso, questo deve superare la soglia di meno 55 millivolt per essere efficace, altrimenti la cellula resterà nella fase di riposo. Un impulso efficace avvia la fase di depolarizzazione, in cui entra il sodio all'interno della cellula. A questo punto, con il potenziale di membrana invertito, segue la fase di ripolarizzazione, in cui il potassio fuoriesce dalla cellula, iperpolarizzandola e scendendo al di sotto della condizione di riposo. Durante questa fase, e in quella successiva di ripristino, attiva la pompa a sodio-potassio, per riportare il gradiente elettrochimico che c'era nella condizione di riposo. La durata complessiva dell'impulso e del potenziale di azione è di 2 millisecondi nei neuroni e di 5 millisecondi nelle cellule muscolari. Questa però è solo una delle modalità con cui può avvenire il potenziale di azione. Ci sono infatti altre cellule, come le cellule muscolari del cuore, che associano alla fase di depolarizzazione l'internalizzazione del calcio. Questo garantisce un plateau di circa 200-300 millisecondi nello stato depolarizzato e serve per rendere refrattaria per più tempo a nuovi impulsi la cellula muscolare. Questo garantisce una corretta contrazione del cuore e delle cellule muscolari del cuore. Se confrontiamo la durata dell'impulso dei miocardiociti con quello di un normale neurone, notiamo ad occhio la differenza e la durata nel tempo.